Questo Natale siamo ancora più buoni! Prenota la tua nuova campagna pubblicitaria prima del 7 gennaio 2018. Riceverai uno sconto immediato del 20%. Per informazioni chiama il numero 333 426 9756. Vigilia di Natale all'insegna della musica nel Centro Storico di Voghera con l'iniziativa Natale e musica in Centro Storico. In particolar modo tutto avverrà in Via Emilia dalle ore 16. Riccardo Rizzo, di che cosa si tratta? Questa è un'iniziativa che abbiamo messo in campo con l'Accademia Rossini e con l'aiuto di Vogheraè per arricchire e valorizzare il nostro stupendo Centro Storico. Si sa che il giorno della vigilia è l'ultimo giorno per fare gli ultimi acquisti e perché no una vasca in Via Emilia e allora abbiamo voluto dare un pretesto in più ai Vogheresi affinché vivano e vengano in centro nel nostro di tutti Centro Storico proponendo un concerto che sarà aperto e libero a tutti proprio in Via Emilia all'aperto davanti alla sede dell'ex Unicredit o dell'attuale Unicredit a dalle 16, un concerto che spazia da musiche natalizie più tradizionali a pezzi più impegnativi di Handel, Verdi o Vivaldi per augurare a tutti i vogheresi che vorranno tenerci compagnia un buon Natale. Quanti elementi saranno coinvolti in questa iniziativa? L'orchestra è l'orchestra dei fiati dell'Accademia Rossini composta da circa una ventina di ragazzi e maestri di musica di Voghera e dei dintorni che si adopereranno per questo concerto. Quindi insomma sarà sicuramente un'iniziativa particolare, importante e che aglieterà i vogheresi che saranno sicuramente affaccendati con le ultime compre prenatalizie, no? Sì assolutamente, noi speriamo che sia un bel gesto per appunto dare vita al centro storico e che molti dei nostri concittadini possano beneficiarne e soprattutto rispondere positivamente e trovarsi insieme a tutti noi proprio in quella data, il 24 dicembre alle ore 16 in Via Emilia. Hai già detto tutto tu, quindi grazie mille e tanti auguri. Grazie a voi e auguri.